Uè non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un sacco di novità alcune direttamente da Epic Games altre un po' frugate nei codici sorgenti relative ai prossimi giorni di Fortnite insomma ragazzi sembra finalmente che il team di Epic Games abbia ascoltato per una volta tanto la community lo sappiamo magari alcuni non se ne sono accorti ma c'è stato un grandissimo nerf al brutto andremo a vedere alcune parti salienti ma parleremo anche finalmente di un argomento già anticipato proprio all'inizio di questa season numero 10 il primo agosto dove su save the world potremmo utilizzare i picconi del battle royale e viceversa si ragazzi perché potremo anche portarne alcuni nel nostro armadietto parleremo anche di un nuovo spray molto molto particolare trovato nei file di gioco e se ci sarà del tempo anche un video in alta definizione della skin segreta quella insomma che abbiamo già visto nella schermata di caricamento che stava ad indicare il junk Rift prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano ogni giorno il mio codice creator XIUDERONE grazie di quale ragazzi per supportare alla grande dove sei finita l'abbiamo perso è qua il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ed ve la ve la devo fare la domandina ve la devo fare ieri mi avete 780 commenti nel video di ieri grazie ragazzi grazie di cuore la domanda di oggi è quasi ovvia per chi segue i miei video ve la voglio fare ugualmente ma te hai shoppato qualche cosa del major laser set di ieri? sì perché è uscito sia il bundle che tutti i pezzi separati vabbè io ho avuto tutto il major laser ma mi piace tantissimo oltre alla skin il piccone secondo me l'ascia dorata è veramente meravigliosa non saprei dirvi invece dei background musicali in quanto non li uso se te hai shoppato qualcosa scrivimelo qui sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle cianci andiamo subito subito a parlare appunto di questo mega enorme è diventato una merda al brutto cioè non c'hanno non c'hanno mezze misure mi mettono all'inizio della season un aggeggio che spara razzi a profusione sparando con colpi di shotgun ammazzando gente e farmando oltre a saltare e a volare in giro come mazinga ai tempi d'oro mi fanno il primo nerf che ci sta con il nerf della patch di adesso braaa è diventato una merda allora hanno ridotto il numero di razzi lanciati dal brutto da 10 sono diventati 6 hanno ridotto del 56% la velocità con cui il brutto lancia i mesi cioè loro te li lanciano tu fai tempo a salutarli farmi due cose e poi te ne vai giustamente loro dicono l'obiettivo di queste modifiche è aumentare lo scambio di colpi tra gli utenti del brutto si arrampicano ai vetri non sapevano più c'era la gente che li stava tartassando gli mandavano i brutti a casa da grandezza naturale quindi ovviamente qualcosa dovevano fare hanno ridotto del 42% il raggio dell'esplosione dei razzi quindi oltre a essere meno i rocket fanno pure meno male quindi fanno vabbè praticamente è come se gli spara i palloncini ad acqua hanno aumentato da 3 secondi a 5 secondi il tempo di recupero dello scatto quindi è ancora più lento a muoversi hanno ridotto del 33% la velocità con la quale c'è l'accelerazione in aria quindi è più lento anche durante la fase appunto di salto in lungo vogliamo ridurre la capacità di un brutto di entrare ed uscire negli scontri a lunga distanza in poche parole ragazzi ora non si chiama più brutto si chiama bara quindi se entrate in una bara non è detto che ne uscirete più vivi altre modifiche le hanno fatte oltre non essendo conti qua si stanno parlando il culo in una maniera incredibile perché hanno detto qua c'è un casino oltre ad averlo praticamente ridotto uno schifo l'hanno anche praticamente reso quasi impossibile da trovare diminuito di brutto lo spawn rate dei brutti rimosso addirittura se non ricordo male nei tornei tra cui hanno rimosso anche il junk rift perché avevano un problema solo nei tornei nella prima fase della tempesta abbiamo il 29% di non trovare un brutto e infatti mi è capitato proprio ieri cioè non ce ne sono non ne scendono il 14% di generarne uno e fino alla fine di generarne 5 quindi una partita su 5 ne puoi trovare 5 detto più o meno in soldoni nella fase 2 della tempesta il 25% di non trovarme il 25% di trovare uno una su quattro o non ne trovi o ne trovi tre insomma ragazzi tantissime modifiche anche sul brutto come vi anticipavo salute del brutto aumentata da 1000 a 1250 almeno quello ragazzi gli hanno dato giusto quei 4 o 5 colpi di AR in più che non si sa mai e come vi anticipavo appunto tolta la fenditura rottami nella modalità competitive ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi si parla di picconi si parla di Save the World e questo è direttamente un annuncio ufficiale che viene pubblicato verso le ore tardo pomeriggio di ieri dove ci dicono preparatevi a raccogliere con stile siamo letti di annunciare che i picconi arriveranno nell'armadietto di Save the World con l'aggiornamento 10.20 l'aggiornamento 10.20 che è anche l'update dove dovrebbe arrivare il putrido pantano dovrebbe essere disponibile martedì quello che sta per arrivare in poche parole non penso che verrà fatto nulla in questo weekend praticamente arriveranno alcuni picconi si potranno sbloccare con Save the World quindi incentivati i ragazzi a giocare a Save the World perché poi da lì appunto l'armadietto è condiviso quindi molto molto semplicemente non ci saranno però attenzione i picconi leggendari quindi rip all'idea di avere finalmente un piccone leggendario saranno tutti picconi con rarità non comune quindi non montiamoci la testa se però avete modo vale la pena intraprendere la carriera di Save the World appunto per portarli anche nel locker di Fortnite e viceversa quelli che shoppate nel battle royale li utilizzate per progredire nei progressi con il vostro personaggio miglioreranno anche le skin per le coperture cioè le coperture in poche parole delle armi perché dicono ancora ci sono tanti lavori da fare per poter rendere ogni skin ogni copertura delle armi impeccabile ovviamente restiamo in attesa di vedere questa patch 10.20 e andiamo avanti con il prossimo argomento eccolo qua ragazzi fantastico si chiama Personal Banner e che cos'è è stato trovato nei file di gioco non è altro che uno spray che va a pittare quindi a disegnare sulle superfici il logo il vostro standardo e il colore di sfondo del vostro standardo in questo caso c'è la volpe con il colore viola sicuramente una cosa molto carina anche perché da quando hanno deciso in poche parole di introdurre gli oggetti personalizzati con il nostro standardo addirittura parliamo delle world cup dove arriva tutto il set con tanto di piccone e mantello hanno poi fatto rilasciare lo scudo la community ha reagito veramente molto molto bene anche io sono in realtà contento di poter portare proprio in game magari il mio standardo penso che condividiate l'idea perché ci sta veramente tanto poter personalizzare al più possibile i nostri le nostre partite i nostri match insomma ragazzi gli aggiornamenti sono quelli che sono non riusciamo neanche oggi a vedere la skin segreta ma non è un problema ve la faccio vedere velocemente ve la faccio vedere velocemente prot eccola qua senza parlarne poi ne parleremo con calma nella prossima puntata ragazzi ad alta definizione allora con la skin segreta in alta definizione io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live con un po' di arenella ciao